Con questa manovra ci sono meno tasse per le imprese, più servizi per i cittadini. Viene consolidato il processo di riordino istituzionale che noi abbiamo da tempo già avviato in questa regione e che ha portato al trasferimento delle funzioni non fondamentali delle province in capo alla regione Marche. Con questa manovra prevediamo infatti 35 milioni di euro per finanziare queste funzioni non fondamentali. Sono risorse importanti per gli investimenti nei territori, per le strade, per i fiumi, per il funzionamento dei centri iate, quindi per il turismo per i quali abbiamo previsto addirittura un potenziamento. Lo faremo tra l'altro questo in una logica regionale, cioè questi investimenti non si guarderà più come facevano le province, come dovevano fare, ad una dimensione provinciale ma ad una dimensione regionale. Oggi questo è possibile e quindi noi lo faremo con la massima determinazione. Conseguo questa manovra anche gli altri obiettivi del mandato del Presidente della Giunta regionale e della Giunta stessa. Oltre ai finanziamenti per cofinanziare le risorse comunitarie ci sono importanti investimenti in materia sanitaria, per l'edilizia sanitaria. Noi andiamo a cofinanziare ad esempio gli APQ, gli accordi di programma quadro per la realizzazione di plessi sanitari. Ci sono importanti risorse per il trasporto pubblico locale, 8 milioni di euro. Risorse importanti per le università, 9 milioni sul trienno, dispiegate nei tre anni. Importanti risorse per la cultura, oltre 4 milioni. E sono più di quelle dell'anno scorso, non soltanto il cofinanziamento del FUS, ma andiamo a finanziare pensiamo al cinema e ad altri interventi in campo culturale. Tra l'altro noi leghiamo queste risorse, lo sta facendo l'assessore Moreno Pieroni, con le risorse previste dai fondi comunitari. Altri 6 milioni per quanto riguarda la cultura. Abbiamo previsto oltre un milione per il turismo, un altro milione per il commercio. Ci sono altre risorse in campo sanitario, ad esempio per i danneggiati da emotrasfusioni, per le protese tricologiche, per la somministrazione di farmaci nelle malattie rare. Quindi risorse nei diversi settori e noi pensiamo di aver soddisfatto tutti gli obiettivi.